Ciao ragazzi sono tornato In questa settimana mi avete chiesto di fare un video Scusate, la scuola settimana mi avete chiesto di fare un video Su FIFA Ultimate Team Spiegando le basi e come fare una buona squadra Anche con pochi crediti volendo Adesso iniziamo Scusate se non sono riuscito a fare la scuola settimana Ma ho avuto dei problemi Che adesso ho risolto E comunque tutto ok Ah, intendo ringraziare Tutti i miei fan Sia sulla pagina Facebook Che sul canale Sulla pagina Facebook abbiamo superato i 2400 fan Mentre il canale ha quasi raggiunto Le 2000 visualizzazioni Scusate Allora Quando inizierete a giocare Ad Ultimate Team Vi verranno dati 18 giocatori di bronzo Alcuni rari e ad alcuni comuni Per poter cominciare subito I vari tornei sia online Che non online Ovviamente il consiglio è quello All'inizio di scegliere i tornei Solo quelli per i giocatori bronzo Così da fare più crediti Ci sono due modi per acquistare nuovi giocatori Partecipando alle aste Nel menu Scambia Andate in scambia Cerca aste E a questo punto dovete scegliere Se acquistare un giocatore Se acquistare un giocatore Oppure gente dello staff Divise Allenamento Sviluppo I stadi I palloni Eccetera Quando dovete comprare ad esempio i giocatori Dovete andare su cerca giocatore E scegliete il livello Che può essere bronzo Argento Oro E qui potete anche decidere di mettere Il prezzo che volete spendere al massimo Ad esempio Volete spendere massimo 300 crediti per iniziare Minimo 300 scusate Massimo 500 Basta fare cerca Col triangolo E vi sapranno i giocatori che sono per adesso In All'asta E Basta Per questo Per questo va bene Adesso vi voglio spiegare Come riuscire a fare una squadra Equilibrata In pochi passi Vi ricordo che non è assolutamente difficile Molti mi fanno Ma come si fa Non ci riesco E' impossibile Le squadre basse mi battono sempre Allora E' una cavolata Allora Iniziamo così Allora Dovete Tener conto Che dovete guardare sempre Ad esempio Il morale Che Basta andare sulla rosa E Prendete un giocatore A vostra scelta Premete su Scusate Il morale Allora Premete L'analogico Destro E Vedrete che Il morale Di Il morale Di giocatori E L'affaticamento Queste Queste due Non so come chiamarli Questi due valori Potete ampliarli Acquistano delle carte morali O delle carte Per Per riprendersi fisicamente Allora Passiamo all'intesa L'intesa E' la vera Chiave di FIFA Ultimate Team Una squadra fatta Di tutti i campioni Possibili Ma con un'intesa bassa Giocherà in modo Ardipo Ridicolo Diciamo Sbaglierà tutti i passaggi I giocatori correranno La metà Si stancheranno il doppio E così dicendo Una squadra di schiappe Invece Ma con un'intesa perfetta Può battere facilmente Una squadra di campioni Senza intesa E vi assicuro Che è una delle Maggiore soddisfazioni Che si possono provare A FIFA Ultimate Funziona così Vi spiego Ogni giocatore Parte da una base Intesa uguale a 0 Un secondo che adesso Vi spiego meglio Togliamo Facciamo finta Di creare Creiamo completamente Una nuova rosa Mi ne avevo Già provato a una Vabbè La chiamiamo Allora Scegliete il modulo Premete l'e 1 Io Per adesso Tutto in posto Sul 3, 4, 3 Che è un modulo Che a me piace Perché È offensivo Però con dei giocatori Rischi di prendere Molti gol Ma con dei buoni giocatori In difesa Te la cavi benissimo Allora Prima cosa Io vi consiglio subito Di scegliere l'allenatore L'allenatore Vi consiglio sempre Di prendere Un allenatore Del Del modulo Che volete usare Allora Allora L'allenatore Io ho Ferguson Che è Basato sul 3, 4, 3 E vedete E vedete Che in basso C'è una specie Di bandierina Non so Come chiamarla E la bandierina È il valore Che ha L'intesa Partiamo dal portiere Allora Portiere Allora Io vi consiglio Molti dicono Io mi creo Una squadra Tutta sulla serie A Una squadra Tutta sulla premier Oppure una squadra Tutta italiana A me sinceramente Questa roba A me non piace Vi spiego Allora Funziona così Ogni giocatore Parte da Un'intesa base Uguale a 0 Poi riceve una serie Di punti intesa Per ogni fattore A lui favorevole Nella formazione Ad esempio Il giocatore Gioca nel suo ruolo Oppure giocano In un modulo preferito L'allenatore Ha la stessa nazionalità Del giocatore Oppure L'allenatore Utilizza lo stesso modulo Del giocatore Oppure E così dicendo I giocatori Che gli stanno intorno Gioca la stessa squadra Del club Oppure Che sono Della stessa nazionalità Ad esempio Allora cerchiamo Il portiere Marchetti Che per me Dopo Buffon È il portiere Più forte Che c'è in serie A E poi Lo affanchiamo In difesa Cerchiamo Difesa Centrale Io ho Samuel No Samuel lo mettiamo Centrale Poi vi spiego Perché A sinistra Mettiamo Lucio E a destra Barzai Che va benissimo Allora E ora vi spiegherò Perché ho messo Lucio A sinistra Vedete che L'intesa Comunque è salita Basta andare a guardare Per adesso Tranne Marchetti Hanno tutto Intesa 9 Il 9 È il valore massimo L'intesa Che un giocatore Può raggiungere Non so se L'ho detto Prima Comunque potete vedere Alcuni giocatori Raggiungono facilmente 9 Perché ci sono I fattori positivi Adatto a loro Adesso Esterno Sinistro Allora Io No Io non metto Esterno Sinistro Cerco Un Scusate Io Ho un A la sinistra Da metterli Che è Michel Bastos Michel Bastos Non gioca nel campionato Di Lucio Oppure è brasiliano E quindi L'intesa sale Centrocampizia centrale C'è Pirlo Non c'è Rino Però facciamo così Cerchiamo Un trequartista Che fa lo stesso Comunque vi consiglio Sempre di usare I moduli Che vi dicono Scusate Per il contratto Ma devo acquistarlo Sono Due tre giorni Che non gioco La FIFA Ultimate Team Perché Mi sto dedicando Ad altro Guardate comunque Come l'intesa Sta salendo Notevolmente Esterno destro Per me Il migliore Esterno destro Che c'è In Italia E i B&E Velocità 96 Il secondo giocatore Più veloce del gioco Francese Adesso vedete L'attacco Per adesso Abbiamo un misto Di Serie A Molta serie A E Campionato francese Alla destra Menesse Per me Bestiale Benarfaidem Che non si lega Con Hernanes Con Scusate Con Pirlo Però Dato che Avicino a sé A un giocatore Della serie A Che è francese Che è Biabiani L'intesa Di Sala 7 Come attaccante centrale Io ho speso Tutti i soldi Che avevo Per Benzema Anche se Non si lega Perfettamente Però È un attaccante Bestiale Alla sinistra Non è Guardate l'intesa 100% E Non abbiamo usato Assolutamente Tutti i giocatori Di una stessa nazione Come fanno tutti Se Per voi va bene Io Anche per questa volta Ho finito Se avete Dei dubbi Da dirmi Qualcosa Che volete Sapere in più Basta chiederla Spero che Il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Di mettere Mi piace Sia al video Che alla pagina Facebook Alla prossima Ciao a tutti Ragazzi Ciao a tutti